Livorno e il suo porto di Alessandro Brunetti Undicesima puntata Nel 1824 muore Ferdinando III e sale al trono Leopoldo II di Lorena. Nel 1835 la popolazione stabile della città sale a 76.258 unità per l'eccedenza delle nascite sulle morti. Si decide quindi l'ampliamento e la costruzione di una nuova cinta muraria. Il progetto, affidato ad Alessandro Manetti, prevede che le nuove mura si sviluppino per circa 7 chilometri e racchiudano un'area di 424 ettari. I lavori iniziano nel 1835 e terminano nel 1837. La zona racchiusa è dichiarata franca e comprende quasi tutti i soborghi e anche spazio per una futura espansione. Le mura partono dal forte di San Pietro, arrivano alla Dogana d'Acqua, a Levante, giungono alla porta di San Leopoldo, continuano poi fino a Coteto e piegando a Ponente proseguono fino al soborgo detto il Fanale, dove è la barriera Maremmana, passando per quella che in seguito sarà via Montebello, fino ad arrivare a Porta a Mare, dalla quale si esce per via del passeggio. Le porte sono in ordine di importanza Porta della Dogana d'Acqua, Porta San Marco, Porta San Leopoldo, Porta a Mare, la Maremmana e la Fiorentina, presso la quale è innalzato un obelisco in pietra. Il Bettarini imposta la nuova città, demolisce le antiche mura, raddrizza il Fosso Reale, prevede i collegamenti fra città vecchia e nuova, indicando quali ponti devono scavalcare il Fosso Reale, traccia nuove vie e nuovi isolati, idea il Voltone, che deve porre in comunicazione la Via Grande con la passeggiata dei condotti. Entro l'area portuale racchiusa dalle nuove mura, fioriscono industrie che portano un incremento al commercio. Il porto però, nonostante l'ampliamento di Cosimo II dei Medici, non ha più la capacità di accogliere le numerose navi mercantili che necessitano di fondali sempre maggiori. Dalle 1600 navi arrivate a Livorno nel 1795 si è passati alle 7296 del 1848. Bastimenti mercantili delle più svariate nazionalità, dai Maltesi ai Gero Solimitani, dagli Ottomani ai Ragusei, ai Sardi che trasportano grano, orzo, segale, fave, bacalà, aringhe, salmoni, stoccafissi, salacche e sale. Il porto è scomodo e pericoloso. La bocca è grande solo in apparenza. Lo specchio d'acqua è utilizzabile in parte. Si configura come un porto canale senza averne i vantaggi. Assenza di risacca, minor ventosità, rendendo lunghe e dispendiose le operazioni commerciali. Diventa necessario un ulteriore ampliamento. Vengono presentati sei progetti importanti ed è accettato quello del Puarell.